Salute, basta aprire noi, lo sto obbligando, mi sto obbligando, lo sto obbligando, il suo dovere suonare, ma è contro la mia volontà, ma è contro la sua volontà, però c'è tanta buona volontà, in questa Italia dove tutti hanno da fare, tutti hanno, tutti devono dare un qualcosina per la società, piccolo, infinitesimale, niente, quasi niente, no, 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 Antonio Giovanni te lo tronco tono, vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.